Sono i vostri amici sottovalutati, siamo gli organizzatori di un festival che vi parà a tremare le vertebre, Dio vuoi. Vengo dalla mia presentazione del mio disco, il delirio più totale, sarà lo stesso, venerdì prossimo il 15, sabato prossimo il 16, domenica prossima il 17, Ravenna, Bastardoni. Siccola classe, dimensi riflessi di chi c'ha una botta da Silver Aids, 3-0-B-Boy Scout, 0-2-A-N-0-B-Zero-Cla.